Ormai sono completate le operazioni di ingresso della Coppa d'Oro di Milano, l'East Race per l'Istair sul tripochilometro. Cavalli partiti! All'esterno Owen Jager che tende a portarsi in evidenza davanti a due right, al terzo Shada, all'interno tre Rodanon e poi Caudillo, right from wrong ed assistance che chiude il gruppo. Davanti Owen Jager che quindi assume l'iniziativa ovviamente senza spingere sull'acceleratore. A secondo posto per via interna è due right in giubba giallo-nera, a largo invece Shada in giubba blu con le stelle bianche. Per corsia interna invece tre Rodanon in giubba a bordo con le maniche grigie. Cavalli che affrontano la curva, tre Rodanon l'affronti in un modo un po' approssimativo, Mario Esposito lo porta immediatamente per corsia più convenzionali. Al quinto posto al suo fianco galoppe invece right from wrong in giubba gialla con le maniche azzurre. In giallo-viola invece il vecchio Caudillo che lascia in coda al gruppetto Existence, in giubba scacchi oro e verdi. In quest'ordine cavalli al completamento della prima curva, sulla retta di fronte due right che va a pungolare il leader Owen Jager. I due sempre seguiti da Shada in terza posizione al quarto posto per via interna e tre Rodanon, poi Caudillo che lascia in coda right from wrong. Un gruppetto comunque ben compatto, andatura che al di là della distanza è stata comunque molto tranquilla in questa prima metà di corsa. Sempre due right a cadenzare, Owen Jager che accompagna. I due viaggiano virtualmente a coppia, mentre Shada viaggia per corsie più esterne, avendo in scia right from wrong, poi ancora tre Rodanon e per via interna Caudillo. I due lasciano sempre in coda Existence. Si viaggia senza scossoni e senza che la corsa cambi di una virgola dal punto di vista squisitamente tattico, anche se adesso Shada dall'esterno va a pungolare i due leader e addirittura a sopravanzarli. Durait è quella che lascia strada in maniera più convinta, mentre Owen Jager si sta riproponendo all'interno della stessa Shada. Per corsie larghe poi Tre Rodanon che in giubba a bordo sta prendendo posizione. muove anche Caudillo. Al largo di tutti, right from wrong Existence che rimane sempre all'estrema attesa. Compattissima la situazione. Shada e Owen Jager che vanno sempre in aperta lotta davanti a right from wrong. Poi ancora Tre Rodanon che prova ad affiancare i due contendenti. Per via interna Caudillo che si sta facendo sotto. Da dietro muove anche Existence. Si comincia a galoppare in maniera seria l'intersezione delle piste. Owen Jager sotto il pungolo deciso da parte di Shada. In corsia larga Tre Rodanon. Caudillo per via interna. Existence che prova ad avvicinarsi. In calo invece gli altri due. Owen Jager in fuga da Shada con Mirko De Muro che temporeggia. Tra i due cerca uno spazio che non c'è Caudillo. Al largo Tre Rodanon. Poi anche Existence che prova a sua volta ad intervenire. Siamo dai 300 metri finali. Shada che va all'attacco in maniera convinta rispetto ad Owen Jager. Ma c'è Caudillo che scatta al loro interno. Tre Rodanon invece perde terreno. Caudillo contro Shada. I due se ne vanno a giocare nell'ultimo tratto. Il vecchio Caudillo contro Shada che affrevolisce lo spunto. Il vecchio Caudillo. Giù il cappello di fronte a questo vecchio leone. Che vince per la seconda volta nella sua carriera la Coppa d'Oro. Al secondo Shada. Al terzo ancora Owen Jager. Grandissimo Caudillo. Luca Magnezzi impeccabile in sella per Kulman e Colori. Andreas Bolte al trading. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.